137 LELIA Ricordi la nostra preghiera serale? Descrizione del nuovo altare a Santa Teresina in parrocchia Alcune vicende dell'amico missionario Sera del 3 ottobre Mio carissimo Fr. Raffaele Eccoci al terzo compleanno festeggiato nel Carmelo Che la Madonna ti guidi e ti protegga sempre Coprendoti col suo manto Ricordi la nostra preghiera serale? Adesso ognuno la fa per conto suo E solo nelle novene ci riuniamo dinanzi all'altarino Che o io o Teresa facciamo nella stanza da pranzo Stasera è finita la novena a Santa Teresina Ed io ti sto scrivendo dinanzi al suo quadro illuminato e ornato con i fiori e con le piante del balcone Oggi ho rietto qualche pagina del libro che ti mandiamo Ed ho pensato tanto a te Che essa ti sia di guida e di esempio Stamattina sono andato a Santa Teresa Dove è stato abbellito l'altare della nostra Santina Su un lato tutta a colori Una Santa Teresa che sparge rose sopra una quantità di gente di tutte le razze E sui missionari carmenitani In mezzo alla solita immagine di prima fiancheggiata dai due angeli Con l'aggiunta di quattro medaglioni in mosaico Dei quattro papi che si sono occupati della Santa Sotto l'altare una Santa Teresina morta in urna di vetro Tutto quell'oro dei mosaici e i colori vivaci delle pitture Spiccono assai Troppo forse Nell'austera chiesa tanto bella nel suo stile severo A me piaceva più prima Ho riveduto Iacubini vestito da seminarista E con lui ho parlato di te Ha detto che voleva venirti a trovare Che è sempre contento E che riparte verso la metà di ottobre E anche lui è cresciuto assai e sta bene Padre Mario è tornato a Roma Ma non si sa ancora se rimane o no nella congregazione Domenica Ventura si festeggia ufficialmente La nomina di Padre Paolino a parroco di Santa Teresa Anche nell'Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane di Albano Ci sono novità Roberto e Francesco da venerdì sera Stanno a Castel Gandolfo Dove hanno trasferito i più grandi del noviziato Quelli che fanno le magistrali superiori Leo e Teresa sono stati poco bene E ancora non si sono rimessi bene Leonardo ha voluto andare a fare una gita Con la congregazione mariana al Terminillo In camion scoperto Per sei ore fra andata e ritorno E naturalmente si è buscato un mal di gola La testa è febbre alta Oggi è sfibbrato E spero che non faccia più giti Almeno per quest'anno Teresa invece ha sofferto un po' con lo stomaco Questa mattina che era la festa della Santa Di cui porta il nome Non ha potuto venire con me alla Santa Messa Ma stasera sta meglio Oggi sia Gilda, Mariella, la Castrucci e la Cottenic Sono venuti a fare gli auguri alla sorellina E gli hanno portato fiori e regalini Ringrazia padre Bernardino dei graditissimi auguri Per il compleanno del nostro matrimonio Grazie assai anche a te Dopo molto tempo padre Gioacchino ha scritto Povero padre Gioacchino Ha detto il fratello che si è fatto amico Un generale comunista E che ha potuto allontanarsi per pochi giorni Dalla zona dove sta Per andare a vendere del miele E poi ritornava su in zona di missione Dove si trova solo con un francescano Speriamo bene Qui la solita vita in attesa Della ripulitura delle scuole Della riapertura delle scuole Ho letto stasera sul giornale Che anche da voi il maltempo ha fatto parecchi danni Voglio sperare che il convento non abbia sofferto tanto Ho pensato assai a quel campanile Che dondola quando suonano le campane Hai ripreso a studiare? Che cosa ti occorre? Ancora mi consolo pensando Alla bellissima giornata passata a Caprarola Quanta pace e quanta serenità Sono stata proprio felice di vederti E ne ringrazio ancora Dio Io e Teresa aspettammo un'ora l'autopulma Ma arrivammo a casa alle nove precise Dopo un buonissimo viaggio O sei che tanto il reverendo padre Priore Pare Bernardino A te figlio carissimo Con rinnovati auguri Tutte le più sante benedizioni Da mamma Grazie a tutti